Proprio galante, ex calciatore, leggenda di sport e salute, siamo qua a Piazza di Siena, Villa Borghese, come hai visto l'atmosfera, hai già stato qua l'anno scorso? Allora, sempre un'atmosfera molto bella, molto rilassante, poi insomma vedere queste gare, veramente sono molto emozionante, ce l'ho stato anche lo scorso anno, perché capita sempre il momento del tennis a Roma, che abita sempre la finale di Coppitalia, che fortunatamente l'Inter era sia lo scorso anno che quest'anno in finale, quindi insomma è sempre un piacere venire qui a Piazza di Siena per assistere a queste gare. Quindi cosa si pensi, c'era la prima volta di Coppitalia? Sì, ero allo stadio, è stata insomma una bella partita, partita difficile, perché poi alla fine la Fiorentina secondo me ha fatto un'ottima partita, poteva anche pareggiare in più occasioni e quindi...